Ciao, è già finito per oggi? Sì, sto andando alla Maiko a fare la prova dell'udito. Ma vuoi venire con me? Che mettiamo KO in silenzio. Va bene, andiamo. Questa è la squadra che allena il tuo udito. Ti aspettiamo entro aprile per la prova gratuita dell'udito. Maiko è presente a Treviso, Conegliano, Belluno, Pordenone, Porto Gruaro e in tutto il Friuli Venezia Giulia.